Da pastore Bovary escluso, Bovary svizzeri, che saranno dedicati dalla Slovenia Maja Koroset. Siamo pronti e cominciamo con il pastore svizzero bianco. Australian Shepherd. Cane da pastore di Brie. Bovaro delle Fiandre. Boptel. Raff Colli. Pastore tedesco Pelo Corto. Pastore Maremmano Abruzzese. Bearded Collie. Australian Cattler Dog. Border Collie. Cane da pastore scozzese Shetland. Welsh Corgi Pembroke. E skip per qui. tre. Cane da pastore. Burt. Fatore 50. Fatore. Fatore Automaja. Fatore si ABfte. Fatore le boche. Fatore. Fatore si ABfte. Fatore si AB Bhto Twitch. 份 werden conectado a Pee. Fatore si AB tutte. Fatore si AB teiğana. Fatore? Fatore. M Vallahi Значит ABTO. Fatore si AB Geschichte. Tutti i migliori soggetti del terzo raggruppamento nel pre-ring E' il momento di una prima selezione a partire dal Pastore Svizzero Bianco, Boptel, Pastore Maremmano Abruzzese, Bearded Collie, Border Collie e Shetland Grazie mille a tutti gli altri Tutti i migliori soggetti del terzo raggruppamento nel pre-ring Che sarà giudicato da Jeff Lascott Tutti i migliori soggetti del terzo raggruppamento nel pre-ring Tutti i migliori soggetti del terzo raggruppamento nel pre-ring Un bel giro di ring per il Bearded Collie Ed è ora il momento di una razza italiana Il Pastore Maremmano Abruzzese Un applauso per questi soggetti è sempre gradito Ricordo che sono i sei migliori soggetti del primo raggruppamento Old English Ship Dog Meglio conosciuto come Boptel Un applauso per questo raggruppamento nel pre-ring E con il Pastore Svizzero Bianco abbiamo terminato l'Up and Down e un bel giro per tutti i soggetti Per poter scegliere quella che sarà la classifica finale Terzo posto third place for Pastore Svizzero Bianco Secondo posto Secondo posto Medaglia d'argento Bearded Collie Vince il primo raggruppamento e rappresenterà questo gruppo al Best in Show di domani Il primo ragazzo è il primo ragazzo Shipdog Boptel Sous-titrage ST' 501